Presentato ieri il nuovo organico della Battipagliese Calcio nel corso della conferenza stampa allo stadio Luigi Pastena, l'obiettivo primario è mantenere la categoria e programmare il futuro, lanciato l'appello da Mario Pumpo e Carmine Guariglia a sostenere tifosi e imprenditori. È un onore molto grande, però non ci mettiamo a paura. Io con la nuova società, con i miei soci, con Carmine Guariglia, cercheremo in tutti i modi di portare la salvezza, perché per noi è una vincita di un campionato, quindi cercheremo in tutti i modi possibili di portare in porto questa salvezza. Ci vuol dire i nomi della nuova società, chi sono i componenti della nuova società? Allora, praticamente io il presidente, Carmine Guariglia il direttore sportivo, Sergio Ferraiolo il vicepresidente, poi ci sono dei consiglieri, Francesco Della Corte e Gino De Martino e ci sono altri che ci daranno una grossa mano. Si parlava anche di azionerato popolare, di qualche iniziativa del genere per sostenere poi la futura società? Si, ci stiamo attivando anche su questo perché chiaramente noi ci servono tutti e la battipagliese è di tutti e non di Mario Pumbo e di Guariglia o di qualcun altro. Chiaramente chi vuole aderire noi siamo aperti a tutti, non ci sono problemi su questo. La situazione attuale di classifica impone di fare subito dei punti importanti per poterli sollevare, anche perché l'organico abbiamo a disposizione, l'organico comunque ci può dare subito soddisfazioni. La guida tecnica è cambiata per questo motivo, per dare una svolta all'ambiente e anche alla squadra. Purtroppo dispiace per Miss Santososso che ringrazio personalmente per il lavoro svolto, però se deve dare una svolta nel calcio si sa paga tra virgolette l'allenatore e speriamo di far bene. Gerardo Viscido è l'uomo giusto al posto giusto? Gerardo è una mia scelta personale perché l'anno scorso ha fatto molto bene da vetrane, è un battipagliese d'occhio, è uno che ci mette l'anima, ci mette la faccia, è un professionista, è uno che comunque sopra ha nominato Sargento di Ferro perché ha un rapporto importante con i calciatori e molto severo ed esigente. Speriamo di aver fatto la scelta giusta, io me lo auguro perché questa società merita di salire subito la china.